Salve ragazzi, eccoci, eccoci. Allora, parentesi, faccio una premessa. Allora, siamo qui, andando avanti con la storia, vi ricordate quando io vi ho detto, eh ma non trovo i miei oggetti, le mie cose che avevo? Allora, io ve l'ho detto, io ho comprato, palle 6 metri, a parte si vede sotto quante ore di gioco sto facendo, 4 ore e 24, qua si vede quante ore faccio, quindi state, guardate ogni tanto le ore di gioco. E, allora, la cosa interessante è che io vi dissi, io dalla PS4 avevo la versione, che cosa succede? Tu, la PS5, la versione PS5, tu non la puoi passare liberamente, dalla PS4 tu devi farti la patch di aggiornamento upgrade, ok? E qua ci siamo. Avendolo fatto, cosa consiste? Che tu ti permette di scaricare verso ore in PS5 il gioco, però con quell'upgrade significa che ti dà tutti i contenuti necessari, più le aggiunte. Vi ricordate che io dissi, mi mancavano cose? Eh, praticamente, sistema, contenuti scaricabili sono qui. Quindi, ecco qua, 1, 2, 3, ottenuto. Ottenuto, 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 ottenuto. Eh, che stai? Ca' erano. E io mi sono esaurito, perché ricordate che la volta scorsa ho detto, guarda, devo ricomprare un'altra volta, perché ho detto, scusa, ma io l'ho comprato per la PS4, perché, così, questa è una versione, giusta? Sì, c'è la versione upgrade anche della PS5, non me lo chiedete perché, ma esista. Eh, sta cosa, ma boh, un scemonito sta cosa. E praticamente, che cosa uno dirà? Ah, vabbè, allora ti sei, eh, della PS5, allora ti puoi comprare, eh, allora, qual è il fatto? Perché se il gioco era della PS5, tu ottenevi anche, eh, l'episodio gratuito. In questo caso, invece, ho dovuto fare l'upgrade della PS4 per trasformare in PS5, però, eh, ovviamente, il DLC non è, si compra a parte. Eh, ecco, allora, andiamo e vediamo un po'. Abbiamo un bel po' di roba, ecco qua, banda di ferro, abbiamo, ben, alcuni interessanti, abbiamo, ben, cosa abbiamo di bello? Uh, eccolo qua, difesa magica, ah, eccoli qua, vedete, austerio bracciale, ok, ma cosa mi può? Ah, madonna, a differenza. Allora, eh, madonna, bracciale di comeo, bracciale appariscente, creato per il posto del mercato murato. Eh, questa è tanta bella roba, ne aumenta difesa fisica e difesa magica, eh, ma lei va corpo a corpo, ci sta, sai che metto lei? Eeeeh, mettiamo anche uno di questi, che è uno, due e tre, che non mi piace perché non vanno bene. Allora, però possiamo aggiungere nuova roba. In questo caso, a lei ci serve elemento fuoco. Mmm... Eh, quasi quasi. Ok. Tifa, tifa già questo, mi serve qualcosa di... Eh, energica, no, energica, eh, però sape buono. Tifa già ce l'ha. Eh, però sape che questo cura tutte le alterazioni, questo è ottimo per Tifa. Però sape bello pure questo qua del fuoco, lo sapete? Ok. Mentre noi possiamo ottenere cose nuove anche noi. Vediamo se... Oh, madonna, la differenza fra loro sono tanti. Ovviamente prendiamo questo qua di Cirina, bracciali di Cirina, eccolo qua. E lo potenziamo con questo e mette qualcosa di figo. Ecco, in questo caso ci servirebbe il coso automatico, che ne dite? Ah, no, ecco. No, mi servirebbe... No, la c'è la solo Tifa. Mmm... Ah, ok, vedete? Ci sta il livello 2. Ah, è giusto che noi abbiamo i livelli, eh, giustamente. Oh, eh, a sto punto usciamo questo. Eh, così siamo a posto. Dai, andata. Bene. Eh, abbiamo fatto e... Nienta, possiamo andare. Che be... Uh... Esper. Eh? L'esper. Cosa? È vero! Noi abbiamo gli Esper! Eh, va buo! Eh... Ah, con Tifa... Con Tifa gli mettiamo giusto. Eh, mettiamo lei, tiè. E lui invece gli mettiamo... Eh... Oh, ragazzi, figurati se non lui metto il cocobbo, dai! Ok, andata. Andiamo? Eh, vorresti poterla aiutar, eh. What the hell, man? You trying to break my arm? Ah, ragging me through the street like this is... Ah, ah, ah! Allora, andiamo! Allora, andiamo. Credo che li faremo molto male, ragazzi. Si, di livello 14, come direbbe... Come, vieni, vengono. Ragazzi, questo è un modo di trattare un modello citizen di Midgard? Modello citizen non stagghiere gli agenti. Quindi, come non ti dimentiché perché tu andavi su ID, quando stavamo andando le loghe di uscita? Eh? You've got it all wrong. I've never gone anywhere near a Shinra warehouse. You've got my ID. Your ID was never lost, Sommar. But it never got you inside a Shinra installation in a first point. But don't you worry. We'll take all the time. I swear. All he had to do was keep his mouth shut. Yep. Ok, vuoi che miniamo tutti? Andiamo e picchiamo! Andiamo! Anzi, voglio vedere come funziona il restante, dai! Frate, pronti a picchiarli! Chi sei? Una cavalliera? È... è quello che penso che sia? Oh, sì! Voi venivano veramente a salvare me! Ma perché picchiarli? Vabbè, tutt'ora no! Allora, mi permette! Ok, abbiamo fatto il sondaggio. Ok, il cane... Ok, pure il vetorazio. Volevo vedere come andasse. Sul serio? L'abbiamo fatti... Uh... So... Is it over? Yo! Anybody there? If you're there, then help me! All right. Ha ha... What? What now? He's a talker. No! You're not gonna... Hold up! Wait! Don't... Don't do it, man! You wanna live? Then get the hell out of town! Hmmmm... 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 You got it, boss! You ain't never gonna see my face again! I swear! Are you sure about this? It's a big risk. I know, but... It's fine. E' un pifone Non più Cloud Stai scambi Stai scambi Stai scambi Stai scambi Stai scambi Stai scambi Le abbiamo fatte leggermente male Oh, roba Non si sa mai Oh, never mind Never mind Non è colpa mia Ah, va bene Per questa volta Ti faccio felice Comunque abbiamo fatto Io Scannalizzare Ragazzi Scannalizzare è importante Soprattutto perché trovi tutti i nemici Tutte le cose Ed è meglio Madonna che casino Ok Ha detto di tornare Prima a casa Giusto? Ha detto che ho bisogno Di riposo Chissà perché Andiamo Oh, che c'è Oh, che c'è Quindi quando si parla, siete davvero ascoltando? Pensando su lui e sulle sentimenti? O siete solo passando le emozioni? Scusate In inglese per facilitare il doppiaggio, perché ricordiamoci che non è come adesso i giochi d'oggi che il doppiaggio viene modificato anche in labiale dei personaggi in digitale, ma prima non era così E quindi che cosa succede? Che il personaggio in questione parla giapponese e quindi loro hanno dovuto, gli inglesi, tradurlo a modo loro, cioè adattare il labiale e quindi hanno facilitato l'interpretazione E questa cosa è brutta, perché in inglese dice un vero amico, cerca di essere un amico, ma un vero amico, vabbè, ok Io non mi ricordo se nella versione da PS4 Ecco, se la versione da PS4 l'avevo fatto sta cosa o se no ero andato direttamente alla misa principale Infatti è un evento secondario, sai che effettivamente mi sembra che non l'ho fatto questo? Cambia il filtro Quindi il lavello, il lavabo, come si chiama, ok Momento di comicità Non mi ricordo questa scena, no perché non l'ho mai fatta Oddio Non sono mai entrata nella sua stanza, signori Ok Sì, mi ricordo che eravamo in una notizia ogni giorno durante la guerra. La cosa è che, dopo la volta che ho finito, non hanno bisogno di più di eros. Era niente come quello che avevamo pensato. Era solo lavorare per Shinra. Scusa, è solo un tema. Non sono un po' di 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 una volta. Ho capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, comunque questa parte non l'ho fatta. Ma perché mi sembra troppo che non c'era. La missione secondaria ha fatto. Ok, abbiamo fatto... La missione secondaria io non l'ho mai fatta. Perché allora io so che se cambiavi la... Il no, quella cosa, mi sembra. Tu cambi proprio il vestito del personaggio. Ti fai una parte di storia, di gioco. Poi lo vedremo più avanti. Solo che io penso che questa parte non l'ho mai fatta. Oddio, di nuovo la parte secondaria, di nuovo lei, che vuole? Ehi, Morrow. Ehi, Morrow. Ok. Ehm... Comunque elegante non la riesco a vedere a Tifa elegante. Bene, andiamo avanti con la storia, ma se no qua non la finiamo. Perché era la missione secondaria. Io credo che nella Versace PS4, quando l'ho giocato la prima volta, sono andata direttamente in missione principale. E qui siamo arrivati. Tu devi essere stoczata. Anche come tu, credo. Potremmo usare qualcosa di più, per ridurre la scuola, certo? C'è un ottimo cocktail che è stato fatto da vostre, che puoi sentire e salvare? Tifa. Sì, mi sento anche un pochino. Hey, credi che ci sbagliare un pochino più lungo? Potremmo. Spremmo un minuto, creare un pochino di salvaggio. Lo vedo. Allora, cosa sarà? Vuoi andare avanti per un po' di tempo? Siamo tornati. Hai... divertito? Molto divertito. Ehi, bisogna andare all'interno. Sì, adesso? Quindi il plan è... Marlene, vuoi aspettare a Jesse in fronte? Ok. Si, sembra che siamo in effettivamente per la mattina domani. Deve andare a cercare i detali con gli altri. Prima di fare... C'è la mia pagina. No, prendi l'argento. Quindi senti e fermi fino a che abbiamo finito. Doppi tempo, Tifa. Madonna! Vittoria! Ok. Va bene. Scusate. Scusate. Ma non dovrebbe prendere più lungo. Nel frattempo... Nel frattempo... Ah, ma c'è la famosa scena con la... con il... con il cocktail. No, che tristezza! È qualcosa di forte, dai. Non lo so. C'è qualcosa di difficile e difficile. Questa è una scena bella. Vediamo se hanno rimigliorato anche la qualità del... del liquido. Perché veramente tra i riflessi e il liquido è uscito qualcosa di spettacolare. Hanno cambiato! Non era così! Beh... La maggior parte delle persone diranno qualcosa di dolore per ora. Sono sicuro che lo diranno. Ah... Ma sei un cliente più diverso, non? Nel caso... Ah no, era questo... Uh... Quanto è diverso! No, c'è la differenza, ragazzi. Lo so perché c'è la differenza. Si è visto subito. Visto a occhio. Perché me la ricordavo l'immagine. Ho bisogno di andare. Allora... Allora... Vedi? No, madonna, quanto fatte bene! Allora, era già bello di prima con l'acqua, con il liquido, ma... Questo è ancora meglio. Uh! La ricordavo l'acqua è stato il lavoro di l'eco-extremist gruppo Avalanche. L'acqua pubblica numero uno. C'è il tuo cuore, non? C'è il tuo cuore, non? Non conoscono i nostri fatti, quindi siamo in giro per ora. Ma vogliamo capire su questo momento. Cosa che... Hai venuto per la prossima? Per il proprio prezzi. Oh, potresti potremmo potremmo per un'acqua. Sigh... Tifa sarà anche con noi, ma... Non lo so... Anche un uomo può vedere che il tuo cuore non è in là. Lei non è mai avuta con le bombi, quindi se si tratta di fare o morire... Se ho bisogno di mettere la vita in mani di qualcuno, allora... Mi piacerebbe che qualcuno sia un professionista. Come tu. Sigh... Se riuscivo a vedere il coso dell'acqua, no. Vabbè, mi devo muovere. Ok. Se io mi allontanassi, si dovrebbe vedere il bicchiere. Eccola, guardate, guardate! No, vabbè, ma è bellissimo. Guarda cosa si muove al liquido. Allora, era bello anche nella versione PS4, ma la PS5 lo risalta moltissimo con i riflessi. Eh... Non posso fare nulla. Eh... Eh... Ah, vediamo come funziona. Eh... 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 Perché è a parabola se usciamo io. Di nuovo. Prossimo turno. Ma faccio io i punti, dai. Fuori uno. No! Dai, cavolo! No! Vabbè, più o meno. Dai, poteva andare peggio. Dai! No! Sfiga! Oh! Prossimo turno. Ancora? No! No! Ah! Ok, mi piace! Vabbè, stristezza. Ah 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 ah. Na ah 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 ah... pensavo ah vabbè ma tu che cazzo capirizzi di donne lasciamo sto zitto non posso giocare con quello niente non posso fare nient'altro vabbè aspettiamo si almeno ho giocato andiamo tifa non è molto contenta andiamo ok è nervosa ancora incazzatissima ah i heard you're having second thoughts i know we have to think big if we're going to make a difference but not like this i just i feel trapped if it feels wrong don't do it non funziona proprio così claude però va bene il signor ovvio è arrivato il signor ovvio i and i Alla for work elsewhere fine by me that's how I like it no contract no obligation figured you'd say that here the rest of your payment along with a little extra for your exemplary service and thus concludes our business gonna have to ask you to leave now this is a private affair sorry I tried we talked it over but in the end we didn't want to put so much on you this is our fight Jesse what's the hold up be right there no hard feelings huh it's fine let's talk more after I'm done here ok really it's fine come on Jesse I'm dying here sorry to keep you thirsty boys waiting che cattiveria una tristezza allora che salute vabbè vabbè senti that hit the spot damn biggs slow down keep it tight ain't no room for error come tomorrow more reason to live it up now yep best way to clear your head so you can focus when it counts it's been too long since we did this not since we went on that all night bender after hq gave us the boot they did not give us the boot it was an amicable separation ah just thinking about it's making me mad again can't believe it's already been a year i don't know how we managed well i do it was you guys going above and beyond thank you no need for that boss we all knew what we were signing yeah but when shit is the fan it's good to know you in my corner at the end of the day you all I got hehehehe hehehehe Allora faccio una parentesi di quello che sta succedendo ok non ci stanno a cinema ma per un semplice motivo nel giochi originali sicuramente che non ho mai giocato a fanfante 7 originale metto la mano avanti e non mi è venuta voglia di rigiocare di giocarla a prescindere ormai ho giocato il remake quindi non giocherò l'originale anche se sbaglio perché dovrei fare un piccolo check e non vorrei neanche che poi le mi spoilerai tutto essendo che il gioco con è tutto completamente questo si divide in due parti o forse in tre stiamo a vedere che la loro è comunque lunga allora io però devo dire una cosa tutte queste conversazioni che stanno facendo tutto laterali che si vedono considerate che probabilmente nell'originale ero tutte frasi conversazioni fra di loro che voi dovete leggere al volo ecco e non erano quelle là che tu parli e clicchi per vedere l'argomento è giusto per dire tutto sbagliare al volo ecco e non c'è vero che sbagliare al volo ecco che ho dotato troppo andate che qualcuno guarda per l'assistri mi pare la soffie ti abbiamo capito come un amico o come un amico come se io davvero di farmi ahahah Io non ricordo questi Non mi ricordo questo Però se dobbiamo picchiare la sagra Forse si Ok Non me ne ricordo Ah si queste ora me le ricordo Ah ok si Forse me le ricordo Com'è bello che questi pensano Veramente di tenermi testa Fammi indovinare Dobbiamo andare lì Eh Che ne dite Ah vabbè Sai che facciamo? Mo te menamo Ragazzi mo vedete come gli facciamo il culo Dai Pensano di Farmi fuori Sti imbecilli Però li analizzerò tutti Uh mafiosetti Pronte a uccidere Idioti Ora Facciamo una bella analisi Di tipo Losco Grazie per l'esperienza Signori Togliamo di mezzo a questi Sti imbecilli Sti imbecilli Sì Sì Se non ci sono Non mi problema L'essere di una Per la vita Nel luogo Prendete un po' di resta Ok Evento principale Era una cagata Però Sapebbe che sono delle piccole cagate Delle cose così Quindi non le Non le tutelo a volte Non le prendo per niente In considerazione Andiamo a riposarci Ok Sì Sempre Mai usare Mai usare Gli M.P. ragazzi Gli M.P. si usano Ok Andiamo a riposarci Ma ho preso poi Tifa Eh Tifa Tu che ci fai Ancora? Mette ansia Che ansia Che ansia Cagano? Sì Non mi incontri Ci sono Cagano Tu hai A tirare In cerco Tutte le donne Che come Cazzo Fa E vabbè Non ho niente Sì Sì Ok Tranquilla Ho qualche missione secondaria da fare Quindi andiamo Pronta a picchiare tutti Sì Non sei tardi Era una missione molto carina Però sì Era perché lei Allora se non sbaglio Lei Era per vedere qualcuno Non mi ricordo ora Ma era una cosa molto semplice Però bello Emotivamente era bello come cosa No Lo sapevo Eh che era una cosa Bella emotiva Me la ricordo infatti Era una questione Di parentesi Esatto Era una cosa molto simpatica Personale Chi è che si unisce a me Io credo che tu ragazzi Hai la tua brand Spankin' nuova ID? Sì 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 Sousi Siamo Sì Sì So far so good All right, here comes the hard part And that is? The fake IDs may have held up, but from this point on, we get pinged by a scan They'll come for us Yeah, what he said Aw, man Just like that? No need to worry, we've got cloud, remember? Hey, you do know how to drive, right? Soldiers get mandatory training Well then, are you going to take my breath away? Make my head spin with your amazing skills? Don't blame me if you get sick Right We've got company Solo's having fun How can I not? Pursuit my village A young couple thrust together by faith Brace through the neon street night Get off I think my heart Oh, my hero Ha 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 ha, il mio eroi Attenzione Si, aspetta Aia Sparisci Aia, colpito Bellissimo Ecco come funziona Bello Si, aspetta Si, aspetta Si, aspetta Si, aspetta E' meglio riuscire, Cloud! No, 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 no. Scusa, e l'atto dov'è? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Non ci sono anche noi! Ho già fatto! Stai passando! Non, non c'è il gioco. Awww... La loro magica è quasi finita. Perché non c'è la parola? Perché non c'è la parola! Perché non c'è la parola! Certo, siamo! Sì, siamo! Non è over! E sparisci! Sì, un attimo! E morì! Oh, non riesco a prenderlo, eccolo! No! Aspetta! Ecco qua! Inzica, tosta! C'è qualcuno in arrivo grosso! Un soldato, eccolo là, un soldier! Cosa sta succedendo? Un soldato, eccolo là, un soldier! Cosa! Cosa! Un soldato! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ah, ha, ha, ha! Sì, benvenuto! Chi è questo? Troppo rapido per l'occhio! Tu lo tracassi, tu morisci! E ora... Mentre se io lo prendo? Oh, splendido! Ho cercato di trovare un nuovo partito di danza! Grazie a tutti, eh? Sì, è vero! Cosa? Vabbè, sto imparando... Devo capire! Sì, sicuramente... Non è vero! Ah, so terribly sorry! New words failed to reach my ears! Smuggish and slow as they are! What's this guy feel? A lady's curiosity has been feasted! My name is Rose, but you may address me by the more accurate appellation. Speed demon! Heard that, huh? Ha ha! My ears are attuned to the feminine voice! Ugh, this guy is the worst! Yes, yes! This is the contest I've been waiting for! It brings your emotions! They are your heart to the world! What a wonderful gift you've given to me! My heart fades out by the second! I do! Shall I keep you company? Non ti azzardare! Feel like dancing, friend! Ahia, ma presa all'ultimo! Non ti dare guardare! Non ti azzardare! Ma dai! Mi sta prendendo inutilmente! Ma dai! Mi sta prendendo inutilmente! Non ti da rendendo inutilmente! Non ti azzardare! Non ti azzardare! Non ti azzardare! Non ti azzardare! Non ti dare guardare! Ahia, ma dai! Non ti dobbiamo usare una bambina! Mi stavo quasi struppiando Si vede quando uno è forte Che culo L'abbiamo quasi fatto presumo No Dai Che culo Andata Andata grande Had enough Don't be absurd As if I could ever grow tired of your company Naughty naughty Until one of our flames is forever extinguished A fence will never rip Burn for me Broom Come on Let's push it past the red line Jessie Take over Well 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 I do believe this round is yours Maybe next time we can keep it just between the two of us Maybe Until we meet again My friend Ok A quanto pare abbiamo capito che sono pazzi i soldi No team Non si è troppo excited Le rinforcimenti sono fatti sul nostro trail Abbiamo finito Sì Siamo arrivati ormai No Ah Sto fa Eh Questo è stato un bel percorso La sta trollando Just hold on tight Will you What? I might Bec Bec Falling after all Psych Ansia Claude Si affeziona tutti a te Non c'è niente da fare Oh Guardate That It's the end of the ride Eccolo là Siamo arrivati Eh Bella tosta Siamo arrivati Non vogliamo dare Tanto attenzione A noi Siamo arrivati Eh Queste cose lasciano un mark Ha ha L'hanno Ti è molto bene Oh E' Non mi preoccupare Siamo arrivati A presto Ora Rolli Bene ragazzi Che ragazzo Sto fare qui Secondo me Che ne dite Eh infatti La stoppiamo palesemente Qui Qui del 38 Passo E chiudo Bella raga Mamma mia Ciao Grazie a tutti Sì Ciao 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 Grazie.